Benvenuti a tutti! Oggi guarderemo insieme il nuovo chatbot Klondike Questo è un chatbot per il cliente interno Infatti, quando c'è un nuovo dipendente se ha difficoltà a trovare un'informazione può scrivere in chat una domanda senza andare a contattare il proprio collega o il proprio capo Ebbene, il nostro è un chatbot creato chiaramente sulle basi del CRM che utilizziamo, ovvero VTN Next Quindi qui facciamo alcune domande Quindi, come si crea un lead? Ebbene, il chatbot va a trovare la pagina relativa alla creazione di un lead tramite le nostre FAQ e i nostri moduli già inseriti nel CRM Ha risolto il problema? Sì Ora proviamo a fare un'altra domanda Quindi, come si converte una mail? Qui abbiamo messo in difficoltà il nostro chatbot perché è una domanda che è in più FAQ A noi serve il mail converter Trovato il mail converter, trovata la domanda trova anche la domanda, anzi la risposta relativa al mail converter e ce la dà Ha risolto il problema? Sì Ora facciamo un ultimo tentativo Vi mostro un'ultima funzionalità che è quella di scrivere una parola Quindi, lead E il chatbot capisce che noi abbiamo bisogno di un qualcosa ma di cosa? Quindi ci dà dei suggerimenti A noi dobbiamo creare un lead Quindi andiamo a scrivere creare Il chatbot va appunto sempre a trovarci la pagina relativa alla creazione di un lead Grazie a Clondi Grazie di aver ascoltato questa demo Grazie a tutti